Nel video di oggi vediamo insieme come inserire un testo sopra una foto con Affinity Photo. Io ho già aperto la mia foto con Affinity Photo, se non sapete come farlo ho fatto un video dove lo spiego e ve lo linko nelle note. Allora la mia foto è aperta, sono dentro al programma Affinity Photo e devo andare qui sulla sinistra dove ho tutti i miei strumenti. Verso il basso uno degli ultimi strumenti è lo strumento testo. Se clicco su questa A mi si apre lo strumento testo. A questo punto io posso cliccare in un qualsiasi punto della mia foto. Non vi preoccupate di essere super precisi in questa fase perché poi comunque noi la scritta la possiamo spostare. Allora io clicco e se clicco una volta vedete mi compare la barretta perché io poi posso scrivere. La vado a appeggiare sulla tastiera, buone vacanze. Allora, in realtà non vedete niente giusto? Perché non vedete niente? Perché se io clicco, mi limito a cliccare, automaticamente Affinity Photo mi apre il mio testo a 12 punti. E 12 punti in realtà è molto poco perché soprattutto se avete una foto in altissima qualità, cioè questa foto è molto grande, ovviamente se questa foto fosse molto più piccola questo testo apparirebbe più grande. Quindi io ora che ho scritto il mio testo, se vado qui vedete che ci sono questi pallini, clicco e trascino, vedete che avevo anche sbagliato a scrivere ma non ci vedevo niente, posso andare a allargare il mio testo. Un metodo però migliore diciamo per non avere inizialmente un testo minuscolo che non riusciamo neanche a leggere, io sono ancora sul mio strumento testo artistico e clicco ma non rilascio il mouse sulla mia foto e trascino. E vedete che io posso già indicativamente decidere quanto sarà grande il mio testo. E quindi, diciamo, quando sono contenta della mia, della grandezza desiderata, rilascio. E ora posso scrivere. E scrivo sul lago, ad esempio. Ok, ed ecco che io ho scritto il mio testo. E come vedete, se io ci clicco sopra, sono ora sullo strumento sposta, che è questa freccettina qua nera, io ci clicco e lo posso spostare esattamente dove voglio il mio testo. Ok, abbiamo già visto che per allargarlo e restringerlo basta andare a trascinare su questi pallini, però vedete, dovete stare attenti, perché se voi lo trascinate di lato, vedete che il testo si va, diciamo, a deformare. Per evitare questa cosa, quando li trascinate dai lati, basta che teniate premuto il tasto maiuscolo. E se vedete, tenendo il tasto maiuscolo premuto, rimangono anche le proporzioni giuste. Se invece andate a trascinare dagli angoli, non dovete tenere premuto niente, perché mantiene automaticamente le proporzioni. Anzi, se voi tenete premuto il tasto maiuscolo, in questo caso, fa esattamente il contrario. Cioè io lo posso, diciamo, schiacciare, allungare e perdere le sue proporzioni. Ora rilascio il tasto maiuscolo prima di rilasciare il mouse, perché non voglio deformare il mio testo. Ok, e questo diciamo che è ingrandire trascinando. Io però posso anche ingrandire il testo utilizzando proprio le dimensioni. Se vedete, quando io clicco sul mio testo, qua sopra ho delle opzioni che riguardano il testo. Intanto posso cambiare il font da qui e, ad esempio, ora ne metto un altro giusto per farvi vedere. Mettiamo Arimo. Non è così diverso da reale in realtà. Cioè è un po' diverso, non così tanto. E qua metto un altro font ancora. Mettiamo un Baskerville. Ok. Quindi io da qui posso cambiare il mio font da qua sopra. E qua cambio anche il peso del font. Ovviamente il peso del font dipende da che tipo di font abbiamo scelto. Cioè i diversi pesi dei font non dipendono da... Cioè dipendono proprio dai singoli font. Infatti se io vado a mettere un altro font ancora, vedete che qua ho più opzioni per cambiarne lo spessore. Ok, facciamo World. Benissimo. E un'altra cosa che posso fare da qui, come vi dicevo, è di modificare le dimensioni del testo. Qua io ho 250 punti ora questo testo. Qua arriva fino a 288. Però non è un problema. Io se clicco qua dentro posso scrivere la cifra che mi pare. Quindi ora provo ad esempio a scrivere 350 e sulla tastiera e premo invio. E vedete che mi ha allargato il mio testo come volevo. Quindi questo è un altro modo per andare a modificare le dimensioni del testo. Un'altra cosa che posso fare con il mio testo è modificarne il colore. E questo lo faccio qui dal pannello colore che è a fianco al pannello histogramma. E devo cliccare qua dentro sul... In questo caso sul nero. Ho selezionato il testo di cui voglio cambiare il colore. E poi andare a modificare qua dentro il mio colore. Qua mi ha dato in automatico il selezionatore di colori dove posso cambiare tramite la tonalità. Ma posso utilizzare altri dispositivi per modificare il colore. Ad esempio vado sul dispositivo di scorrimento HSL. E da qua cambio la tonalità del mio colore. Qua ne cambio la saturazione. Qua metto quanto può essere scuro, quanto può essere chiaro. E da qui modifico i colori. Magari diciamo come modificare i colori lo approfondirò in un video successivo. Vi devo dire però che tutto quello che dovete sapere su come modificare i colori, come funzionano questi dispositivi di scorrimento, è lo stesso identico funzionamento che si ha su Affinity Designer. E io su Affinity Designer ho fatto tantissimi video approfonditi su questo argomento. Quindi in realtà se nel frattempo che aspettate che io registri questi video anche su Affinity Photo potete intanto andare a vedere i video su Affinity Designer perché il concetto è assolutamente identico. Un altro concetto che è assolutamente identico, racchiudiamo un attimo il colore, è il fatto che quando voi selezionate sul testo qua avete alcune opzioni per il testo. Ma ci possono essere altre opzioni ancora che trovate nel pannello del carattere. Qua però il pannello carattere non è aperto. Per poterlo andare ad aprire dobbiamo andare su Visualizza, poi su Studio e vedete che qua ci sono alcuni pannelli. Quelli che sono già spuntati sono quelli che sono già aperti, ma se noi andiamo a spuntarne quelli che non lo sono ancora ci si aprono. In questo caso devo andare a cercare quello dei caratteri. Eccolo qua, vedete sotto canali c'è carattere, ci clicco sopra e vedete che mi si apre un pannello carattere in cui ci sono tantissime opzioni che posso modificare. Tutte queste funzionalità però le possiamo andare anche a esplorare in un altro video. Direi che il nostro obiettivo l'abbiamo ottenuto e abbiamo inserito un testo sulla nostra foto. Ora chiudo un attimo il pannello carattere. Questo tipo di grafica in cui c'è un testo sopra una foto io in realtà preferisco di gran lunga farlo con Affinity Designer. Se però non avete Affinity Designer potete sapere che anche con Affinity Photo è assolutamente possibile inserire un testo sopra una foto. Anche per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!